In attesa del cenone di San Silvestro con i ladri in casa, nessuna tregua di capodanno per la banda di topi di appartamento entrata in azione nell'Interlanda vellinese anche mentre era scattato il conto alla rovescia per i brindisi al 2020. Ride a tappeto nelle aree da tempo finite nel mirino dei ladri. In alcuni casi i furti sono stati eseguiti a piano di sopra degli appartamenti mentre le famiglie erano impegnate giù in cucina o in salotto per giocare a tombola o preparare il cenone di fine anno. Un 2019 che vola via nel segno di un'inquietante escalation di colpi messi a segno ai danni non solo di billette ma anche di case popolari. Svaliggiate sul filo di lana dell'anno vecchio due abitazioni a Bellizzi Irpino, un 31 ad altissima tensione anche per la comunità di San Potito Ultra. A poche ore dal 2020 infatti i ladri hanno saccheggiato un'abitazione mentre i proprietari erano fuori portando via oro e gioielli. Una volta trafugato il bottino e due malviventi con il volto travisato da cappelli e capucci si sono andati alla fuga a piedi ma sono stati avvistati e rincorsi da alcuni cittadini. Nonostante i malviventi fossero armati di mazzere di ferro, probabilmente impugnavano i piedi di porco gli strumenti utilizzati per forzare gli infissi. Complici del buio e ladri sono riusciti a dileguarsi per le campagne portando via la repurtiva. Sul posto anche i carabinieri che hanno battuto la zona a caccio dei fuggitivi. Dopo l'assalto nei giorni di Natale tra le abitazioni ridosso di Parco San Gregorio e da Tiparda sembra essere tornata almeno in parte la calma. Meno a pochi giorni fa Contrada Pettirossi era stata più volte visitata dalla banda, tanto da spingere alcuni cittadini a vigilare sul territorio con le ronde un gruppo WhatsApp. Con un po' di ansia sicuramente, però i nostri mariti si sono mobilitati, stanno comunque facendo delle ronde, diciamo cercano di essere presenti sul territorio. Ad Tiparda, così come in altri comuni dell'Interlanda Avellinese, la guardia è tenuta comunque sempre ben alta. Nel pomeriggio due pattuglie del reparto di prevenzione e crimine della Polizia di Napoli e le volanti della Questura di Avellino presiederanno le aree di recente più colpite dai furti. L'area soprattutto in alcune zone causa il ripetersi dei colpi, si è fatta molto pesante. Le comunità chiedono maggiori controlli e presenza da parte delle forze dell'ordine per evitare altri saccheggi e pericolosi contatti con i malviventi che sempre più audaci agiscono con le persone all'interno delle abitazioni. I cittadini si dicono ormai stanchi in alcuni casi dopo aver subito raid a ripetizione. Si dicono pronti a tutto per difermare gli sciacalli che rubano e violentano l'intimità di famiglie, di anziani e onesti lavoratori.